I rifiuti, emergenza al momento tamponata in Calabria con l'ordinanza regionale, la numero 246, che in realtà prevede il sopralzo, ossia maggiori conferimenti in discariche quali Cassano nel Cosentino e Columbra nel Crotonese. Provvedimento tampone, perché ha una durata limitata nel tempo, avrà efficacia fino al 30 giugno 2020. Ordinanza contestata fortemente, soprattutto nella città di Pitagora. Oggi l'interrogazione al Ministro dell'Ambiente, della deputata pentastellata Elisabetta Barbuto, la quale evidenzia come l'autorizzazione concessa alla società Sovreco di continuare nella banco della discarica di Columbra di ulteriori 120.000 tonnellate di rifiuti provenienti da tutta la regione, rappresenti essa stessa un'emergenza, con i disagi per chi risiede sul territorio, famiglie che da tempo ne chiedono la chiusura. Attesa, nei prossimi mesi, la visita in Calabria del Ministro Sergio Costa, il quale si troverà dinanzi ad una situazione difficile, un problema mai risolto. Non c'è solo Crotone, infatti, ma Gioia Tauro e Cosenza, dove nei giorni scorsi, lato Presidente e il Sindaco di Rennes, Marcello Manna, sembrava avesse trovato la quadratura del cerchio con la realizzazione dell'eco distretto a Morano Calabro, ma i cittadini hanno detto no all'impianto, l'amministrazione ha fatto marcia indietro, 42 milioni di euro che nessuno vuole, sindaci che non hanno alternative se non quella ribadiscono, come Cassandre, inascoltate, di smaltire fuori regione la spazzatura, con le conseguenze delle bollette più salate per i nuclei familiari.